Termis Bizzotto, verso nuovi orizzonti. Da 30 anni produciamo e commercializziamo tutti i tipi di vetro per l'edilizia residenziale e industriale e per la refrigerazione commerciale. Vetri isolanti, facciate continue e strutturali, tende veneziane interne al vetrocamera, di sicurezza e protezione, vetrate artistiche, inserimento di pannelli fotovoltaici in vetrocamera, vetri per banchi frigo. Siamo una realtà forte, propositiva, dinamica e flessibile. La continua evoluzione tecnologica apportata al nostro sistema produttivo e le riconosciute capacità del nostro team ci rendono una delle più moderne e avanzate realtà del settore. Tutti i nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione CE. Termis Bizzotto, un partner affidabile per le vostre esigenze. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS